Un nostro amico, un amico del mio medico, il professor Stefano Arceli. Buongiorno caro professore. Buongiorno, buongiorno Monica e buongiorno a tutta la redazione. Perché oggi con lei, allora abbiamo un po' stravolto la scaletta, perché lei in questo momento ci parla dal Policlinico Umberto I, uno dei più grandi ospedali d'Europa addirittura. Beh, con lei vogliamo fare un po' il punto sull'emergenza coronavirus. Con lei ci dovrebbe essere un infettivologo, purtroppo l'Umberto I, come tanti ospedali italiani, sta vivendo un momento particolare di questa situazione. La curva non tende a scendere. Allora, ci può descrivere com'è la situazione lì nel suo ospedale dove lei opera, professore? Grazie Monica, grazie dell'opportunità. Allora, dici bene, la tua redazione ha provato a contattare tre infettivologi, e chiaramente non sono infettivologi di grido o comunque infettivologi che di solito vanno in televisione, sono infettivologi giovani che lavorano nei reparti. E purtroppo tutti e tre, che si sono sempre resi disponibili, ormai si rendono indisponibili perché ormai il loro lavoro è talmente impegnativo che non hanno veramente neanche il tempo di andare in televisione. Eppure fa un po' piacere a tutti andare in televisione e cercare di chiarire questa situazione. Questa è, diciamo, il prologo, l'introduzione a quello che sto per dire. Cioè, in questo momento, anche il mio ospedale, che fa capo, come voi tutti sapete, all'Università di Roma Sapienza, è già in una situazione di crisi, nel senso che i posti cominciano a essere, diciamo, non scarsi, però cominciano a essere quasi pieni. E noi stiamo parlando, come giustamente aveva detto Monica all'inizio, di uno dei più grandi ospedali d'Europa. Abbiamo più di 900 posti. Considerate che di questi 900 posti totali, 500 sono stati destinati al Covid, ai pazienti che hanno bisogno di essere ricoverati in reparto Covid. Per cui immaginate che importanza ha in questo momento l'ospedale dove lavoro io e che mole di lavoro sta svolgendo. La mia preoccupazione, Monica, è rivolta a quegli ospedali che non hanno la stessa capacità ricettiva che può avere quell'ospedale dove io fortunatamente lavoro. Per cui la preoccupazione sta aumentando. È proprio di poche ore fa, ormai l'avviso che il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici di tutta Italia stanno chiedendo al Governo di avvicinarsi all'ipotesi di un lockdown totale. Ecco, professore, la interrompo perché di questo parleremo, ma dobbiamo rispondere a tante domande che ci stanno arrivando in redazione. Anche i dubbi su come usare bene la mascherina, sui vaccini, vaccinarsi o meno contro l'influenza. Insomma, tante domande. Adesso ci fermiamo, però, una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui in diretta al mio medico. Non cambiatele male. Bentornati, bentornati in diretta. Stiamo parlando dell'emergenza coronavirus e lo stiamo facendo in collegamento con il professor Stefano Arceri. Bentornato, professore. In collegamento con uno degli ospedali più grandi d'Europa, il Polichinico Umberto I, dove il professore fa il chirurgo generale, ci stava spiegando un po' la situazione del suo ospedale. Come ci diceva, professore, 900 posti letto all'Umberto I, 400 dedicati solamente ai casi Covid. Ecco, stiamo vedendo adesso un cartello, professore, che colpisce un po', perché questo numero delle terapie intensive è più 115 che continua ad aumentare. Anche in quel caso, nel suo ospedale, che situazione si sta vivendo, professore? La situazione nel mio ospedale è sicuramente una situazione importante. Considerate che stazionano nel pronto soccorso sempre una quarantina, una cinquantina di malati positivi in attesa di essere distribuiti nei 500 posti, Monica, non 400. 500 posti che sono stati dedicati al Covid. Le terapie intensive, man mano che si riempiono il Polichinico, che è il Polichinico però, ne apre altre, per cui stiamo aprendo altre strutture di terapia intensiva. Oggi in Italia sono più di 2.500, sono 2.750 la terapia intensive occupata. Nel massimo, nella parte più alta del lockdown, ve lo ricordate, di marzo-aprile, siamo arrivati intorno ai 4.000 e non siamo arrivati ancora nel periodo più delicato, che è quello nelle quali arrivano le sindrome influenzali virali, quando il nostro organismo diventa più fragile, più predisposto ad ammalarsi. Quello dove tutti noi ci prendiamo la cosiddetta febbre influenzale virale. Per cui è in quel momento, che deve ancora arrivare, che noi dovremmo prestare la massima attenzione. Con questo non voglio fare, Monica, perdonami, terrorismo psicologico, ma voglio richiamare l'attenzione alle persone. Il litorale laziale ieri era stracolmo di persone che andavano al mare a pranzo fuori. Non è il momento di andare fuori. Noi dobbiamo purtroppo privarci di gran parte della nostra libertà a beneficio della nostra salute. È fondamentale questo in questo momento. Noi non dobbiamo aspettare il lockdown che ci viene imposto da questo governo che sta cercando di gestire, insieme a un comitato tecnico, questa emergenza. Il lockdown deve diventare personale. Cioè noi dobbiamo uscire di casa solo se è strettamente necessario. Visto che mi hai chiesto delle mascherine, ed è giusto che lo faccia, Monica, perché tu mi fai delle richieste alle quali io rispondo sempre molto volentieri. Fondamentalmente abbiamo queste due mascherine. Esatto. Questa è la mascherina chirurgica e questa è la FFP2. Qual è la migliore? Allora... La FFP2, Monica. In questo momento la FFP2. Questa qui, perché questa protegge di più chi la indossa. Mi segui? Cioè protegge sia chi è vicino a chi la indossa, ma anche chi la indossa. Mentre questa mascherina protegge più chi è vicino a chi la indossa. In questo momento in cui non dobbiamo guardare, credetemi, il numero dei contagi, questi 30.000, 40.000 che arrivano al giorno. Noi dobbiamo guardare l'impegno dei nostri ospedali come sta aumentando gradualmente ed esponenzialmente. Cioè non si ferma mai. È quella crescita che noi dobbiamo bloccare. Perché se il sistema sanitario, come sta dicendo il Presidente della Federazione dell'Ordine Medici, collassa, non riesce più a rispondere a tutte le esigenze. Credetemi, è un problema serio che coinvolge tutti perché il Covid non fa distinzione di razza, non ha simpatie e antipatie. Coinvolge tutti. E non è, credetemi, prendetelo per buono, non è un problema dell'altro, è il problema di tutti noi. E solo con la coesione e l'unità potremo veramente riuscire a combattere questo nemico invisibile e perfido. Molto cattivo. Allora, professore, mi ha fatto vedere le due mascherine. Se me le fa rivedere, e con calma, perché oggi la sento particolarmente arrabbiato, giustamente, perché lei vive in una situazione allucinante, io immagino. ...di gente che disattende e perlomeno sottovaluta la situazione. La situazione, bisogna entrare in un ospedale e vedere che la notte arrivano i malati che non entrano nel pronto soccorso e devono aspettare fuori con le ambulanze perché c'è la folla dentro il pronto soccorso. Queste sono cose che devono far pensare. Riusciamo comunque a gestirle perché il mio grande ospedale le gestisce egregiamente queste situazioni, ma non fa piacere vedere le ambulanze fuori in attesa di entrare, Monica. Questa è una realtà che bisogna anche raccontare. Il sintomo anche è che nessun infettivologo è potuto venire oggi, cinque minuti, a parlare con noi, giustamente, perché purtroppo ci sono tanti malati che necessitano di cure e per cui, insomma, non si possono permettere di venire qui in televisione. Questo è importante. Possiamo però far vedere come si indossa la mascherina. Io so che lei su questo punto è molto puntuale e ci tiene molto anche. La utilizzo adesso. Non va mai toccata con le mani nella parte anteriore. Chiaramente tutti voi conoscete queste mascherine, se sono piccolore, azzurro da una parte, bianco dall'altra. La parte, diciamo, esterna di solito è quella azzurra, non è quella bianca. Non giratele pensando di fare una cosa intelligente. Non serve, deve essere messa dritta così. La mascherina va inserita, messa dietro le orecchie, abbassata la parte inferiore, sotto il mento, non sopra il mento, sotto il mento, e chiusa il ferretto intorno al naso, ben aderente. Mettendola ben aderente, gli occhiali, per i portatori di occhiali, si appanneranno molto di meno, perché l'aria fuoriesce dai lati e dal basso e non va verso l'altro. Questa è la mascherina che va presa, messa e tolta senza toccarla. Questa va tolta dagli elastici, dopodiché va gettata in un sacchetto chiuso e buttata. Il sacchetto va chiuso e va buttata nell'indifferenziata. Questo è il destino di queste mascherine, che devono essere sostituite appena possibile. Non vi possiamo dire che vanno sostituite dopo mezz'ora, venti minuti, un quarto d'ora, due ore, tre ore. Appena la mascherina comincia ad essere umida, va sostituita. Professore, parliamo di un altro tema che a noi sta molto a cuore, come sta a cuore anche a lei, la vaccinazione. Prima ha detto ancora dobbiamo entrare nel periodo dell'influenza piena. È importante vaccinarsi adesso? Noi abbiamo visto su Instagram che lei lo ha fatto proprio per sensibilizzare le persone a farlo. È vero? Quanto è importante vaccinarsi? Sono stato incolpato perché mi espongo un po' sul social cercando di portare l'informazione nel modo semplice, con capire per prevenire, di chiacchierare tanto e di non fare nulla e che io avevo detto che la vaccinazione, ho detto che la vaccinazione è importante, deve essere fatta per cercare di abbassare la possibilità di andare al pronto soccorso per le influenze. È chiaro che la vaccinazione che io ho fatto e l'avete vista qui, la regia ve la sta facendo vedere, è fatta innanzitutto col vaccino perché, Monica, credimi, alcuni hanno pensato e hanno scritto che io mi ero fatto inoculare acqua o nulla, cioè siamo arrivati all'assurdo che io mi faccio vaccinare con il nulla. Allora, io la vaccinazione l'ho fatta contro il virus influenzale, non ho fatto il vaccino contro il Covid che ancora non è uscito. Con questa vaccinazione io mi sono protetto da una parte dei virus influenzali che arriveranno perché il virus è fatto sul virus che deve arrivare, che sta arrivando. Questo non significa che se mi viene la febbre per forza deve essere un Covid. Se mi viene la febbre è presumibile che sia Covid perché? Perché essendo vaccinato contro l'influenza che più probabilmente dovrebbe arrivare è difficile che mi venga l'influenza. Ma non è escluso al 100%, Monica. Certo, certo. Non c'è chiaro l'informazione? Assolutamente chiarissimo. La vaccinazione che ho fatto e che avete visto tutti là ha indotto il mio sistema immunitario a reagire contro quel vaccino ed è stato stimolato a funzionare. Questa stimolazione al mio sistema immunitario lo ha reso un pochino più difensivo anche dell'eventuale Covid che potrebbe arrivare. Grazie. Chiarissimo, professore. La sento molto arrabbiato. Mi dispiace per questo. Ce la faremo anche questa volta. La storia le insegna. Le pandemie vanno via per fortuna. Grazie, però bisogna fare attenzione a questo sicuramente. Grazie a professor Stefano Arceri. Buona giornata e buon lavoro.